Nessuna intervista, almeno per ora. Una campagna elettorale che prenderà il via domenica in forma, diverse e non in presenza. Il Covid non lo permette. Francesco Peghin scioglie ogni riserva e scende in campo, affidando l'ufficialità della sua candidatura, nota da mesi in città, a un comunicato. Mancano poco più di quattro mesi alla scadenza dell'attuale amministrazione comunale di Padova. La città, che chiede di ripartire dopo anni di problemi non risolti e difficoltà economiche e sociali generate dalla pandemia, ha ora un'alternativa concreta di governo completamente nuova. Domenica prenderà infatti avvio ufficialmente la campagna elettorale di Francesco Peghin per diventare il nuovo sindaco dei Padovani, che vogliono una città alla loro altezza e l'altezza del futuro, che meritano tutti a cominciare dai giovani. Nessuna frase in prima persona, l'annuncio di una partenza diversa, a distanza, precisa allo staff e in una forma che si scoprirà. Imprenditore, presidente di Confindustria nel 2007, presidente del Museo della Medicina, una passione per lo sport che lo ha portato alla guida di Sindustria Sport nel 2002, Peghin si racconta soprattutto come padre e marito. Una candidatura discussa nel fronte del centrodestra che la sta supportando da mesi, oggetto di una discussione all'interno di quello che potrebbe essere il partito di riferimento, la Lega, con dissidi e malumori alla base della possibile espulsione del sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. Una candidatura che trova l'appoggio delle forze moderate della coalizione. Peghin ha però scelto di dare il primo colpo di clacson da solo, senza partite alle spalle, presentandosi così. Inizia la maratona più bella, quella verso il futuro di Padova.